se c'è un libro che ha avuto un impatto sul mio destino di lettore e quindi poi anche inevitabilmente di autore è stata la fattoria degli animali di george orwell un libro che a me è capitato di leggere da bambino complice una copertina di un'edizione intascabile che era in omaggio a una rivista che aveva comprato mio padre e che aveva tanti animali disegnati in questa bella copertina che mi avevano un po tratto in inganno e fatto pensare che mi sarei ritrovato di fronte a uno dei tanti libri per ragazzi che dai sopo in poi hanno la caratteristica di avere degli animali come personaggi con caratteristiche umane e che per questa loro caratteristica fin troppo simbolica hanno anche un aspetto quasi anestetizzante su quello che poi la loro lettura effettiva invece stavo per fare una lettura sconvolgente perché mi avrebbe insegnato per la prima volta che un libro un romanzo una storia può essere qualcosa di davvero disturbante di qualcosa in grado di turbare il lettore e però di aprirgli delle possibilità di comprensione più ampia su quella che la vita umana e allora sono entrato in questo mondo di George Orwell che ha la caratteristica di presentarci questi animali in tutta la loro concretezza fisica con tutti anche i problemi fisici che rimangono sempre quelli degli animali di una vera fattoria con i problemi di una fattoria e però poi rappresentano anche con una forma di umorismo sottile tante tipologie umane ma soprattutto sociali che nelle varie diciamo rappresentazioni animalesche poi hanno un preciso richiamo a quello che poi in realtà io all'epoca quando ho letto il libro non avevo alcuna idea di chi fosse George Orwell né tantomeno di quello che fosse stato Stalin nella dittatura stalinista dopo la rivoluzione russa l'intento di George Orwell anche dai suoi scritti è evidente quello di presentare una satira nei confronti di questa dittatura in un momento in cui non era facile farlo perché la Gran Bretagna era stata alleata dell'unione sovietica e allora durante la guerra non era facile andare a colpire la dittatura stalinista ma George Orwell lo fa con coraggio anche avrà delle difficoltà a trovare il primo editore di quello che poi diventerà uno dei libri più letti più venduti nel mondo però anche rileggendo oggi questo libro sto ripensando al meraviglioso incipit in cui una volta che ci si è sbarazzati del fattore di questo signor Jones questo ubriacone pessimo pessimo direttore della fattoria proprietario della fattoria tutti gli animali vanno ad ascoltare il vecchio maggiore questo anziano suino che ha fatto un sogno lo vuole condividere gli animali rinunciano a un'ora di sonno per andarlo a sentire allora rileggere oggi tutte quelle pagine sicuramente satiriche e simboliche che però parlano di quanto l'uomo abbia rappresenti il problema reale degli animali perché appunto vuole solo sfruttarli li riduce a una vita terribile allora a parte che sembra di sentire quasi profeticamente molte di quelle che poi sono diventate delle battaglie per i diritti degli animali ma rileggerlo in questo momento in cui tutto il mondo c'è questa pandemia causata proprio dalla mancanza di rispetto dell'uomo degli equilibri naturali allora dimostra che un libro che al di là del primo intento dell'autore è importante che va sempre contestualizzato però poi in realtà siamo di fronte a un oggetto narrativo talmente perfetto che perde poi l'aderenza banale con il primo motivo di attualità per il quale è stato scritto e diventa qualcosa di universale che parla di caratteristiche umane che ci sono sempre state e sempre ci saranno no e che può avere sempre nuove interpretazioni come è tipico di quegli oggetti meravigliosi che sono i classici e che appunto rappresentano in realtà un mistero e che continuano a essere raccontati fino a quando sono un mistero ma torniamo dentro la fattoria e allora il vecchio maggiore regala un sogno che è quello della rivoluzione liberarsi dell'uomo e diventare proprietari e padroni della fattoria in modo tale che tutti gli animali possano lavorare in maniera in base a quelle che sono le loro possibilità e non ci sia più un dominatore come come l'uomo e però il vecchio maggiore già nel dare questo sogno e regalare anche una canzone e quindi un'emozione un racconto che convince subito e tutti quanti gli animali presenta anche già un primo avvertimento importante ma voglio ripeterlo tenete sempre a mente che dovete essere nemici dell'uomo e di tutte le sue abitudini tutto ciò che va su due gambe nemico tutto ciò che va su quattro gambe o possiede ali e amico e ricordate inoltre che nel combattere l'uomo non dovete mai assomigliargli anche quando lo avrete sconfitto non prendete i suoi vizi nessun animale vivrà mai in una casa né dormirà in un letto né indosserà vestiti né berrà alcolici né fumerà tabacco né toccherà denaro né si impegnerà in commerci tutte le abitudini dell'uomo sono malvagie e soprattutto nessun animale dovrà mai essere convertiranno dei propri simili e allora insomma dice con chiarezza anche un rischio che in realtà poi diventerà la chiave di svolta narrativa di tutto quanto il libro questa rivoluzione che sembra un sogno così lontano da 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 compiersi sempre complice l'ubriachezza e l'inettitudine del signor jones che si va a ubriacare si scorda di dare a mangiare gli animali gli animali si inferociscono anche quando ormai il vecchio maggiore è morto e appunto fanno la rivoluzione si impossessano della fattoria e scrivono quelli che sono i sette pilastri dell'insegnamento del vecchio maggiore la nuova generazione di maiali sono gli animali più intelligenti anche dotati già di una cultura prendono quindi il comando e danno quelli che sono i sette comandamenti li scrivono uno tutto ciò che va su due gambe è nemico due tutto ciò che va su quattro gambe o possiede ali è amico tre nessun animale indosserà vestiti quattro nessun animale dormirà in un letto cinque nessun animale berrà alcolici sei nessun animale ucciderà un altro animale sette tutti gli animali sono uguali incidono questi questi insegnamenti e sembra che ci sia una grande gioia ma già all'inizio già alla fine del secondo capitolo inizia esserci un elemento di turbamento perché le vacche che comunque sentono la necessità di essere munte vanno munte ci pensano i maiali bisogna andare a lavorare a insomma a essere dei bravi gestori della fattoria al latte penseremo dopo e però poi quando tornano a questo latte scomparso allora poi subito vengono presentati tutta una serie di personaggi anche abbozzati a volte ma che rimangono impressi nel ricordo della lettura per per sempre e i primi due grandi personaggi sono appunto questa grande rivalità che c'è tra due maiali sono un po gli eredi del vecchio maggiore che è quello che ha dato l'ideologia e che Karl Marx e c'è questo scontro poi tra palla di neve e tra napoleone ovvero tra troksi e stalin e all'inizio palla di neve è più interessato a creare comitati a cercare di insegnare agli animali a leggere tutti i principi dell'animalismo che è questa filosofia che gli ha guidati nella rivoluzione invece napoleone si interessa più a prendere subito diciamo nove cuccioli dice li addestrerò io li farò crescere io li educherò io no e questi nove cuccioli di cane poi per un po scompaiono ci sono tutta un'altra serie di personaggi importanti e che comunque diventano anche una cifra umoristica molto bella del libro da la vanitosa molly questa cavallina che rimpiange di zuccherini ma anche i nastrini e che quindi poi scapperà perché vorrà di nuovo diciamo avere quegli aspetti più vanitosi che con la mancanza dell'uomo li erano venuti a mancare la gatta che è un personaggio anche quello davvero divertente quando gli animali all'inizio c'è che coordinano infatti loro non lavorano ma non hanno il lavoro fisico ma coordinano e quindi comandano in qualche modo ma poi ci sono le assemblee i maiali parlano discutono poi si vota e allora la gatta finisce per votare sempre sia sì che no è un personaggio anche questo molto divertente poi c'è il cavallo boxer che è il personaggio dei personaggi più belli e anche più drammatici del libro è questo cavallo che crede nella rivoluzione e che lavora lavora sotto rappresenta proprio la classe operaia ma comunque in generale anche togliendoci fuori da l'intento satirico di rappresentare quella esperienza umana quella stagione quella quella tragedia umana rappresenta però anche l'uomo saggio che decide di impegnarsi di lavorare non particolarmente istruito non riesce andare oltre la lettera d nell'imparare l'alfabeto però che crede nel duro lavoro nel rispetto delle regole e che si impegna più di tutti nel far sì che la fattoria degli animali abbia successo e prosperità poi c'è un altro personaggio davvero bellissimo beniamino questo questo asino che la salunga che sa che gli asini sono gli animali che vivranno di più e che diciamo capisce sempre tutto dall'inizio e però non ha voglia di leggere perché dice che non c'è nulla di interessante di leggere è avvolto da un nichilismo per cui lascia andare tutte le cose anche quando capisce che ci sono elementi che non andrebbero bene dicevo c'è questo scontro tra napoleone e palla di neve perché palla di neve vorrebbe far costruire un mulino a vento che poi porterebbe l'elettricità nella fattoria degli animali quindi li permetterebbe di non lavorare napoleone contrario a un certo punto utilizza questi cani che sono cresciuti e che sono diventati la forza con la quale scaccerà il suo maiale antagonista e prenderà istituirà un vero e proprio comando non si vota più e quindi diciamo che c'è l'inizio di una dittatura da quella che era una rivoluzione che aveva portato una democrazia e ci sono tutta una serie di elementi sempre più inquietanti perché in realtà tutto quello che era stato il monito del vecchio maggiore inizia in una mutazione continua che hanno questi questi maiali guidati da napoleone e che iniziano a fare una trasformazione verso la sostituzione dei maiali con gli uomini ma soprattutto e qui la cosa disturbante del libro di george orwell gli animali diventano sempre più bestiali nel momento in cui iniziano a diventare come gli uomini ma quello che dà il vero potere a napoleone oltre alla propaganda oltre che alla forza fisica è anche la mancanza di memoria degli altri animali che l'unico che potrebbe avere memoria è appunto nichilista è un po la figura dell'intellettuale quando in qualche modo si sente superiore ma non avverte il bisogno di impegnarsi allora beniamino che però ha questa bella amicizia con boxer è un'amicizia davvero bella perché è descritta dal fatto che loro passavano tanto tempo insieme senza parlare allora c'è il sintomo di quando c'è davvero amicizia e è tolto lui che però non si impegna gli altri animali non hanno memoria e quindi si può anche modificare le leggi no e allora se prima era la legge nessun animale dormirà in un letto quando i maiali decideranno di andare a vivere nella casa degli uomini scacciati che doveva diventare un museo allora sostituiranno questa scritta con l'aggiunta nessun animale dormirà in un letto con le lenzuola e così quando inizieranno a bere scopriranno il whisky che diventerà poi il motivo c'è una scena del libro che io trovo straziante che ripenso sempre a quando l'ho letta da bambino e ancora oggi di volta che la leggo e trovo uno dei capitoli più tristi della letteratura di tutti i tempi ma dicevo loro scoprono gli alcolici e allora sostituiscono nessun animale berrà alcolici in quantità eccessiva oppure quando poi napoleone con questi cani farà delle vere e proprie esecuzioni una volta che è stato scacciato fisicamente dalla fattoria palla di neve però lo utilizzerà ancora come capro espiatorio come nemico e diranno ci sono dei suoi agenti allora commette per la prima volta l'uccisione da parte di animali di altri animali allora aggiunge nessun animale ucciderà un altro animale senza un motivo e quindi con questa capacità di andare a cambiare però il passato perché proprio non avendo capacità di memoria gli animali iniziano anche a non rendersi conto che poi sotto il gioco di napoleone si sta peggio addirittura di quanto si stava sotto quello del terribile signor jones ma non hanno memoria quindi solo attraverso la paura del ritorno degli umani accettano queste trasformazioni dei maiali che prima prendono il latte e le mele per loro come primo primileggio poi però iniziano anche ad abitare la casa iniziano a bere alcolici iniziano a trafficare con gli altri umani a volte subendono anche degli attacchi iniziano a maneggiare denaro in tutta una serie di diciamo comunque episodi che hanno sempre dei riferimenti precisi con la storia dell'unione sovietica ma che appunto diventano universali che possono essere interessanti anche per fare un riepilogo della storia ma che e comunque non finiscono per esaurire il senso del libro mai e poi a un certo punto mentre viene promessa la pensione a tutti gli animali che raggiungono una certa età questo boxer questo cavallo così forte così eroico così involenteroso a un certo punto si ammala perché è vecchio e lì c'è la scena più terribile del libro perché i maiali che vogliono del whisky decidono dicono lo faremo andare a essere curato da un veterinario e però in realtà è lì c'è l'unica volta che beniamino ma anche gli animali quasi si stanno per ribellare perché beniamino che sa leggere vede che c'è scritto macelleria e quindi chiama tutti quanti gli altri animali andiamo stanno portando via boxer c'è questa scena che veramente il lettore che legge è scritta con una sapienza enorme perché in qualche modo c'è anche la final c'è sempre una trovata che ti fa pensare adesso ce la fa perché non può finire al macello no e invece questa sequenza succede proprio quello dicevo beniamino arriva e dice venite subito portano via boxer quindi senza aspettare ordini dai maiali e quindi proprio con una sorta di ribellione gli animali abbandonarono il lavoro e corsero verso gli edifici in cortile trovarono un gran furgone sigillato e trenato da due cavalli con una scritta sulla fiancata e al posto di guida un uomo con la bombetta a calotta bassa e l'aria scaltra e viscida e il posto di boxer in stall era vuoto gli animali si accalcarono intorno al furgone arrivederci boxer gli dissero in coro arrivederci pensando che viene portato da un veterinario per essere curato idioti idioti gridò beniamino la prima volta che si ribella in qualche modo saltando attorno a loro e scalpitando coi sui piccoli zoccoli idioti ma non vedete cosa c'è scritto sulla fiancata e allora gli legge macellazioni carnequine un grido d'orrore esplose dal petto di tutti gli animali a quel punto l'uomo a cassetta frustò i cavalli e il furgone uscì dal cortile di buon trotto allora cercano di bloccarlo poi a un certo punto non riescono ad andare avanti a questo furgone però avvisano boxer che cerca di aprire la porta ma non ce la fa l'ultima cosa si appellano ai cavalli che trainano questo questo questa con questo carro sul quale c'è boxer che viene portato via ma loro sono troppo ottusi e quindi alla fine vanno via e quindi se ne va via anche boxer in questa scena così terribile e tutto questo perché i maiali possono avere una cassa di whisky e riubriacarsi e poi a un certo punto i maiali compiono una metamorfosi che è quasi quasi terrificante nella parte finale del libro perché iniziano a camminare su due gambe ma hanno di nuovo fatto questo lavoro sulla memoria e allora le pecore che velavano quattro gambe buono due gambe cattivo adesso iniziano a velare quattro gambe buono due gambe meglio e alla fine tutti tutti quegli insegnamenti di tutto quel sogno non rimane più traccia perché tutto viene sostituito con la terribile e geniale frase che viene viene messa a sostituire tutti quelli che erano gli insegnamenti del vecchio maggiore in cui appunto dalla scritta tutti gli animali sono uguali si passa poi a tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri e poi alla fine quando arrivano gli umani nella fattoria ritornano come soci dei maiali gli animali a un certo punto vanno nel finale a guardare dentro la casa in cui ci sono maiali e umani e succede veramente una metamorfosi che è scompleta e terribile nel finale del libro sono 12, 6 maiali e 6 umani, 12 voci urlavano rabbiose perché giocano a carte in cui si scopre che stanno imbrogliando tutti e due ed erano tutte uguali non c'era più alcun dubbio su ciò che era successo alla faccia dei maiali dall'esterno le creature evolgevano lo sguardo dal maiale all'uomo e dall'uomo al maiale e ancora dal maiale all'uomo non era già più possibile distinguerli l'uno dall'altro e quindi c'è la mutazione completa e c'è quest'idea appunto di una rivoluzione nata e però soffocata dal fatto che chi è arrivato al potere dimentica tutto quello che era il motivo per cui era arrivato al potere e cerca solo il privilegio e quindi fa ritornare a tutto quanto come era prima della rivoluzione George Orwell ci lascia però un altro insegnamento ancora più attuale forse che ci riguarda proprio da vicino nella prefazione, nell'appendice La libertà di stampa che era stata pensata da George Orwell proprio per raccontare le difficoltà che questo testo aveva trovato per essere pubblicato e che appunto racconta come ci fosse una censura non tanto imposta dall'alto ma che gli stessi editori sentivano, addirittura un editore va a portare il libro al ministero che in tempi di guerra si occupa di censura e vari editori scrivono a George Orwell preoccupati e allora forse la forma di censura e di autocensura più terribile è quella che nasce non da un'obbligazione ma da il fatto di voler comunque compiacere il proprio pubblico e la frase che trovo più attuale di tutte è questa se la libertà significa qualcosa significa il diritto di dire alla gente ciò che non vuole sentirsi dire e che forse oggi è una delle cose più difficili e che richiama proprio al coraggio di George Orwell banalmente anche nella comunicazione social l'idea che comunque io subito un risponso in numeri di follower di ricondivisioni o di like diventa allora una forma di censura perché io non posterò mai qualcosa se so che questo può creare disturbo poi invece benedetti i libri come La fattoria degli animali che invece inquietano e anche quando strappano qualche lacrima a un bambino però poi gli fanno capire la potenza di un libro